Ciao bambini, adesso correggiamo le altre tre numerazioni. Vi ricordate che potete aiutarvi usando sia la numerazione che avevamo fatto in precedenza o un'altra che siete costruiti da soli, oppure usate le vostre mani. Se dobbiamo numerare per due, conto due sulle mani, numero per tre, conto tre sulle mani. Vediamo insieme la correzione di numero per due da 151, 201. Partiamo da 151, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169. Altro cambio di decina, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199. Facciamolo bene con le mani, 199, 200, 201, finale 201. Numera per tre da 181, 220. Partiamo da 181, 181, ma questa volta sulle mani metteremo un numero. Conteremo tre numeri, per cui 181, 184, 187, 190, 193, 196, 199. Contiamo bene, 199, 200, 201, 202. Riprendiamo da 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220. E poi l'ultima, numero per uno da 202 a 188, anche questa è una numerazione regressiva, cioè partiamo da un numero maggiore e andiamo verso un numero minore. 202, 201, 200, state bene attenti perché andando indietro di uno c'è il cambio di centinaia e quindi 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188. Se avete fatto tutto correttamente disegnate anche voi uno smile. Ciao bambini!